Musica Musica Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Venivano i messaggi da Radio Londra per me, io mi chiamavo Bruna come nome di battaglia e la mia compagna di scuola che stava con me si chiamava Chiara perché io ero mora e lei era bionda e i messaggi che venivano da Radio Londra per me erano mandati sempre da noi. Bruna sta bene perché io stavo sempre bene con le scarpe rotte.